tra pochi giorni a mandello avremo il motoraduno del centenario della moto guzzi è un evento incredibile molto atteso da tutti gli appassionati vi chiederete perché proprio a mandello beh carlo guzzi ha scelto mandello per aprire la sua famosissima azienda e qui sono state realizzate le moto che hanno segnato la storia ma mandello non è solo moto guzzi per chi verrà mandello per il motoraduno credo sia interessante sapere che in questa città di 10.000 persone ci sono anche altre realtà molto importanti qui abbiamo la carcano che è un'azienda leader nella fabbricazione di laminati di alluminio per il packaging abbiamo la chamber che fa le equilibratrici avete presente quelle che si usano per equilibrare le ruote delle auto ecco quelle e non solo ma anche equilibratrici per tantissimi prodotti turbine e moltissime altre applicazioni poi abbiamo l'ala franconi silenziatori che fabbrica i silenziatori per quelli che noi chiamiamo comunemente marmitte per tantissime case motociclistiche e non solo e poi c'è la gilardoni cilindri nata da un'intuizione per la quale hanno ideato un sistema per il trattamento galvanico dell'alluminio che permette di realizzare motori in alluminio per le più diverse applicazioni dalle barche alle moto alle auto insomma davvero aziende che hanno saputo affermarsi sul mercato internazionale e tra queste c'è anche la gilardoni noi di gilardoni abbiamo voluto omaggiare in qualche modo moto guzzi per il suo centenario e abbiamo pensato di farlo realizzando una radiografia integrale di una delle loro moto più famose un falcone 500 del 1956 portare questa moto all'interno dei nostri bunker non è stato facile e per fare questa immagine per ottenere questa immagine abbiamo dovuto fare oltre 100 radiografie per poi comporle come in fase ma alla fine ci siamo riusciti e siamo sicuri che il risultato sarà apprezzato dai vari appassionati perché si possono scorgere gli interni i dettagli e si può vedere la moto in un modo diverso dal solito moto guzzi gilardoni cembla franconi silenziatori carcano gilardoni cilindri sono l'esempio di come le persone di questi luoghi non si siano accontentate del turismo che era un facile risultato visto che siamo sulle rive del lago di como con alle spalle la griglia ma si sono ingegnate con passione e creatività per creare delle aziende che hanno poi fatto la storia e tutt'oggi affrontano i mercati internazionali con i loro prodotti credo sia giusto quindi avere orgoglio di queste aziende e festeggiare moto guzzi anche noi di gilardoni quest'anno stiamo festeggiando il nostro 75esimo anniversario quest'anno abbiamo anche ottenuto il riconoscimento del marchio storico che il ministero dello sviluppo economico assegna alle aziende importanti che hanno oltre 50 anni di storia dobbiamo essere orgogliosi della creatività e della passione che hanno portato alle aziende di questa città ad affermarsi nei vari mercati le storie di successo quindi sono tante e gilardoni è una di queste orgogliosa se condividete questo orgoglio seguitici sui nostri canali e attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle varie novità